Buonasera ragazzi, bentornati in un nuovo live nel Piedinaro del Svapo, questa sera a tenermi in compagnia ci sarà Hagrid, il mio amico. Buonasera, buonasera. Che in realtà è il reverendo, spiega, spiega perché sei vestito. Davvero, perché sono un coglione, perché sono un coglione, sì. Buonasera a tutti signore e signori, no, sono vestito così perché sentivo un pochino freddo, ma soprattutto è in diretta controtendenza rispetto al video uscito, per carità, bellissimo, però non me la sarei mai sentita di stare a tette al vento a fare la scena. Hai le tette? Te hai il vento? Io ho le tette, cioè qui, queste sono tette ragazzi, cioè non è che sono... Allora ragazzi... No, vediamo un pochino chi siamo, non ho THC, THC no, non ho THC no, TCR sì, ma THC no. Non ho THC, eh? Va bene, va bene, va bene. Allora, Federico, di che si parla stasera? Si parla di controllo della temperatura. Intanto, scusa ragazzi, ma sto montando il kit Exuvia nel Millennium, che è una figata, e sono un attimo preso, perché sono arrivato a casa anch'io adesso da lavorare, e quindi sto rigenerando per svapare con voi stasera. Però il buon Voyager, visto che tantissimi di voi hanno chiesto di approfondire il tema del controllo della temperatura, e io una persona conosco che sa fare bene il controllo della temperatura, ed è lui, e mi so fare due cose nella vita. Mettere a posto i Mac, fare da mangiare, e il controllo della temperatura. Si sente il mio eco? Io invece non sento più Piedinaro, non so se voi lo sentite. Non mi senti più? Pronti, pronti. No, mi è morto tutto. Come fai a rispondermi? Adesso aspettiamo un attimo che stiamo andando a posto. Voi mi sentite, però, a me, vero? Adesso ti sento anch'io. Si sente? Allora, vediamo un po'. Un attimo, ragazzi, e chi è doschi uno? Comunque, il kit è questo. Un, due, tre, prova, sa, 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 un, due, tre. Mi senti? Io ti sento benissimo. Perfetto. Dicevamo, stasera lui spiegherà il controllo della temperatura, secondo Volger, nel senso, una persona che vuole incominciare a entrare nel mondo del controllo della temperatura, innanzitutto spiega il perché uno dovrebbe passare a svappare il controllo della temperatura. No, perché tanto, con tutti i casini che si stanno dicendo dietro in questi giorni, il benzene, il toluene, altre schifezze, e visto che la maggior parte delle sostanze nocive viene sviluppato quando andiamo a svappare con il cotone secco, quindi quando andiamo a bruciare il cotone, il controllo della temperatura appunto permette di non andare a bruciare e quindi non produrre sostanze tossiche, eccetera, eccetera. Ok, se così non si può prendere seriamente, allora faccio una velocissima metamorfosi. Sì, diventa, ecco. Ecco, così sono molto più carino, dai. Sì, dai, così sì. Va bene, e quindi diciamo, con il controllo della temperatura possiamo e andare a controllare che il nostro cotone non si bruci, ma anche e soprattutto andare a giocare con la temperatura, quindi vedere di far sviluppare parti del nostro aroma che magari vengono nascoste da una temperatura troppo alta o troppo bassa. Sì, allora, a mio parere, la cosa più, non più importante, però la cosa per cui la utilizzerai io è la seconda che hai detto. Perché comunque se sei bravo a rigenerare, hai della manualità e hai della bocca, è raro che vai a svappare in secca e a sviluppare quelle sostanze. Però c'è anche da dire che tanta gente, gli succede che magari svappa bene, ha un liquido mentolato e ha la spira del mezzo che è un hotspot, lui non sente che è in secca perché il mentolato lo copre, il fruttato lo copre, ha soltanto il reggerissimo spot, ma comunque magari si sta svapando della roba che non va bene, perché è inesperto e comunque può succedere, perché è capitato anche a me, che più bene, non sa perché, rigeneri sempre uguale, ma la spira del mezzo è un hotspot. Con il controllo della temperatura non può succedere. Però io lo utilizzerei di più per sentire le varie sfumature di liquido, di un tabacco aromatizzato. Sì, questo è un gioco che si può fare nel momento in cui conosci bene il tuo filo, hai capito come lavora, hai capito fino a che temperatura puoi spingere senza problemi, allora a quel punto ti metti a giocare, a vedere cosa succede se io porto a 190 gradi anziché 220, e allora magari trovi, ad esempio io sul barrel, se lo mando a 190, sento più le parti erbacee, quasi fosse acerbo, diciamo, un tabacco verde. Quando lo porti invece a temperature più alte, viene fuori il tostato, viene fuori il torbato anche del whisky, cioè sono tutte queste parti aromatiche che si sviluppano o meno a seconda della temperatura. No, no, ma è interessantissimo, interessantissimo. L'unico problema che ho io, e che ti direbbe, secondo me, io parlo come quello che non ha mai fatto, no? Sì, però io quando svapo, l'ho provato dai miei amici, e non spinge un cavolo. Io, quando svapo non mi appaga, perché il vapore è più freddo, e poi dopo taglia, e non mi appaga più di tanto. Come mai? C'è un modo per non farlo? Allora, bisogna intanto capire perché taglia. Perché ad esempio, io posso fare una coil da 0,20 ohm, e se vado a vedere sui vari manuali, la devi portare a 40 watt. No! La devi comunque mantenere a un vattaggio tale che ti porti ad arrivare in temperatura secondo una curva, e non secondo una retta quasi verticale. Quindi uno svapo di guante devi portare lentamente la temperatura. 14 watt. Sì, 14, quindi si va 18 se è un filo particolarmente ostico. E comunque, quello che si tende a fare con il controllo di temperatura è aumentare il numero delle spire. perché come fa la nostra box a capire a che temperatura è la nostra coil? Semplicemente misura la differenza di resistenza, di valore resistivo, da freddo a una volta portato in temperatura. Ogni materiale ha un suo valore di modificazione che si chiama TCR. Dopo alcuni materiali, tipo il Cantal, non ha variazione di resistività, quindi non è adatto per fare il controllo di temperatura. Come anche il N80. Il N80 non cambia in maniera così netta la sua resistività. Ok. Cosa si usa? Quindi si usa materiali tipo l'acciaio 316, l'acciaio 304, anche se non sbaglio. Ma anche il NIFE 48 che mi avevi portato? NIFE 48, NIFE 30, ma addirittura si può andare con cose tipo lo zirconium, che non si leggerà l'etichetta, probabilmente, sì, forse si legge. No, sì, si legge. Lo zirconium e il titanio. Il titanio, però è difficile rigenerare col titanio e con lo zirconium. sono un pochino duro da maestrare. Ma anche se è uno spessore così piccolo è comunque così tanto duro. Ma questo è un 29, più che altro è molto elastico, nel senso che se perdi la spira tende a riaprirsi. Porca boia. però è un filo ci sta. Ma no, è così. È fatta apposta così. Quindi dicevamo, la box misura questa variazione nel valore di resistenza e, a seconda del TCR, calcola o meglio, fa una stima della temperatura. Quindi cosa succede? Se io ho una box che non è ben regolata o il circuito comunque che non è estremamente preciso, magari la mia coil arriva a 190 gradi e la box mi segna che è già arrivata a 230 e quindi taglia. Oppure il materiale non è così preciso. Per esempio l'acciaio 316 ha un valore TCR di 100 0,001 che effettivamente è poco per essere preciso. Ok. In quel caso bisognerebbe avere più materiale possibile quindi avere un diametro maggiore, avere più spire possibile eccetera eccetera in maniera da aumentare il coefficiente di precisione. Tutte queste cose si possono calcolare andando sul sito Steam Engine e andando nell'apposita sezione dove ci permette di fare tutta la simulazione e vedere quante spire, qual è il valore TCR, qual è il TCR precision eccetera eccetera. dimmi. Ok. Cos'altro devo dire? Quindi io devo impostare i watt no? Mi conviene impostarli sempre un pelo più bassi piuttosto che un pelo più alti. È meglio un pelo più basso perché così hai più tempo per far scaldare ti metti di più a scaldare ma non taglia. Arriva a volte non arriva neanche alla temperatura di taglio proprio perché quando il cotone è ben bagnato quando la coil è fatta bene deve comunque raffreddarsi proprio per il fatto dell'evaporazione. Ah quello sì però io vedi anche quando con te perché per chi non lo sa comunque i Weiger si frequentiamo anche fuori dal di qui però quando io svappo la roba che c'hai te in controllo della temperatura cioè è innegabile spinge di meno nel senso tu senti è poco ma è sicuro che spinga di meno perché comunque il circuito impedisce alla coil di andare ad una certa temperatura. Sì ma anche che proprio il tempo in cui si attiva e tutto quanto è diverso molto diverso. Lo dipende molto anche del materiale se io faccio una cosa di più 80 sì effettivamente è un pochino come il mondo della pipa c'è chi preferisce la pipa più grande che ha certe caratteristiche che ha la pipa più piccola eccetera eccetera ma non stai dicendo che a me non piace è che devi abituarsi sono due cose completamente diverse cioè non potrai mai svappare normale come in controllo della temperatura e viceversa quello è fuori di dubbio ad esempio qui c'è un NIFE 48 030 Ohm e sono mi sembra un 7-8 spire di 27 Gauss quindi già un filo che è abbastanza grossino se vogliamo per cosa perché così esponi più materiale alla vaporizzazione e diciamo in una certa misura ti avvicini di più a quello che è lo swap in vari watt vediamo un pochino sì 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 però no ecco per chi non non l'ha capito perché non è facile da entrare in questo sistema di ragionamento però dovete capire che non si potrà mai anche chi paragona il controllo della temperatura meglio questo meglio quell'altro secondo me è proprio da intendere come sono due cose diverse sono due modi diversi come il meccanico e l'elettronico ovviamente è un altro tipo anche il tipo di circuito in questo caso conta molto ad esempio il DNA sappiamo che ha una curva abbastanza morbida nell'attivazione altri circuiti più o più aggressivi cercano di scaldare prima la corda e poi tagliano dopo dopo dipende molto appunto dal materiale se il materiale è stabile eccetera eccetera si riesce anche ad arrivare a temperature piuttosto alte senza che la box debba tagliare proprio del tutto i watt ok come ti trovavi te con quella di vaporezzo che ti ho dato quella di vaporezzo è molto aggressiva ad esempio se fai la coil in acciaio bisogna intervenire sul valore TCR preimpostato e fare in modo che sia un pochino più conservativo perché effettivamente andava anche a bruciare o meglio a tostare un pochettino il cotone questo facendo la prova col cotone asciutto è una delle prove che si fanno per verificare che il circuito sia preciso lo metti a 190 lo metti a 210 lo metti a 230 a 230 effettivamente si deve cominciare a vedere un minimo di tostatura ecco con la vaporezzo veniva un pochino di più del minimo di tostatura di solito con il DNA a 230 quasi non vedi diventare per niente color nocciola il cotone certo però anche lì dipende tutto anche dal materiale con l'acciaio ho dovuto alzare un pochino la tolleranza con il nife 48 l'ho dovuto abbassare la tolleranza allora se tu ce l'hai ancora una vaporezzo in mano se vai nella parte do it yourself di UI dove vai a regolare i vari parametri anche per i materiali preimpostati c'è il valore TCR ah sì posso andare alzare in questo caso aumentando di 1 2 massimo 10 unità o diminuire 10 unità puoi andare a regolare la linea di simulazione della temperatura quindi se alzo leggermente il valore TCR la retta sarà un pochino più inclinata e quindi andrà a intervenire prima perché secondo lui ha quel valore di resistività la temperatura è 230 in realtà magari è 210 per dire sì 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 ti chiedo una roba posso vedere io ho la maglia che vedi che sta facendo luce sì perché? devo abbassare il contrasto o aumentarlo? posso abbassare un po' la luce non posso comunque anche la faccia è abbastanza ben illuminata meglio così? sì così è meglio ok perfetto oh dopo ora divento buio vabbè sì che va bene dai su ok pignolo eh? pignolo sì sono pignolissimo fai bene vediamo se c'è qualche domandina sì intanto ti saluto Wafom grande dottore mi inquino ai suoi piedi le do così una penedizione volante esatto chiedono quindi per spiega innanzitutto come si fa spiega le basi perché così dopo riusciamo a rispondere a tante domande insieme allora la base prendi tot cemento tot acqua io posso fare un PCR sì cosa ci serve un circuito intanto che ci permette di andare nel controllo di temperatura quindi che sia IHI che sia Starplat diecodes DNA Vaporesso con anche con quello nuovo della Gen ad esempio che mi sembra un ottimo software per se non sbaglio da quello che ho visto e questo è un addirittura l'autolettura della coil da freddo quando tu metti l'atoma quello un po' mi spaventa quello un po' mi spaventa perché nel momento in cui la scaldi vai a variare il valore sul controllo di temperatura misura quanto è cambiato dalla prima lettura alla seconda che anche quello non è male esatto lui te la misura da freddo poi ti fa tre attivazioni a tre step che ha deciso lui e in base a quei riferimenti lui vede quanto cambia la resistività e ti capisce che materiale c'è su e tutte quante le cose è molto intelligente come cosa avrà una sua bella tabellina di valori TCR comunque va bene come cosa cosa ci serve poi per andare in TCR un materiale un filo di un materiale che sia adatto quindi titanio zirconio nife 48 acciaio nife 30 resist term ce ne sono parecchi insomma di materiali adatti infine un atomizzatore che non sia bastardo tipo se andiamo a prendere che ne so un un expromiser 1.3 che ha la sua bella molla all'interno quello anche solo muovendosi può andare a fare delle false letture comunque non è così tanto preciso quindi comunque un atomizzatore che sappiamo essere preciso nella lettura degli home ok questa è proprio la base 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 poi se vogliamo spingerci un pochino oltre bisogna avere la box che sia calibrata quello che non si è che non avevamo accennato l'altra volta ogni box ogni box costruttivamente può avere delle tolleranze interne quindi avere un minimo di resistenza aggiunta spuria eccetera eccetera ad esempio con DNA come si fa si mette al posto dell'atomizzatore un tappo di rame che può essere anche semplicemente un pezzo di filo di rame ben stretto nella tazza si collega al computer e c'è proprio nel software la ricerca del valore della calibrazione dell'atomizzatore praticamente la mandi in cortocircuito e lui ti vede tot esce tot deve entrare quella differenza è quello che perde la box esattamente a quel punto andando a impostare quel valore lì nel circuito siamo abbastanza sicuri che il valore eletto sia quello effettivo della coil e non quello introdotto poi ce ne sarebbe anche altri io lo faccio solo con le box dove mi hanno detto che l'hanno già preimpostata generalmente non è così tanto presente questa resistenza spuria no io quando ho visto c'era 0,004 0,006 cioè sono quei valori che dicono poco però comunque fra 10 gradi e 20 gradi possono voler dire qualcosa o comunque se hanno usato dei fili non perfetti potremmo anche trovarci con una resistenza spuria un po' troppo alta ok va bene quindi abbiamo detto l'automizzatore abbiamo il nostro materiale abbiamo la nostra box cosa ci serve sapere cosa vogliamo fare ovvero possiamo andare in controllo di temperatura sia in MTL ma anche in flavor o in cloud però la differenza qui è semplicemente dall'input iniziale che noi gli diamo esattamente o meglio se voglio andare in flavor o in cloud ho bisogno di qualcosa che esponga molto materiale per la vaporizzazione quindi farò piuttosto che un filo singolo o piuttosto grosso magari vado a fare un bel twist oppure una coil parallela o se vogliamo andare con le complesse però non puoi usare il titanio per esempio per fare queste cose perché no? e venga che fai una twist col titanio e ti si srotola quello è sempre possibile vabbè comunque gli esempi twist di solito li faccio col NIFE 48 anche col 27 ho fatto delle coil che diciamo per andare in flavorino non per fare i nuvoloni qualcosa diciamo qualcosa danno dopo invece vai a prendere le coil di Waffle quelle in acciaio fanno il loro porco lavoro quando le faceva ancora quindi mi raccomando tu tu che stai leggendo devi ricominciare a farlo siamo capiti una cosa che non hai detto che secondo me è molto importante anche per tanti che hanno iniziato da poco e non bisogna fare il dry burn prima sì ma ancora non abbiamo fatto la coil ah perfetto vai 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 normalmente a parte che effettivamente non andrebbe fatto anche in MTL non andrebbe fatto il dry burn basterebbe pulire il filo con un pochino di alcol alimentare e già siamo a posto perché non c'è bisogno di fare che sia cosa giusto giusto con le coil complesse per verificare che non ci sia un hot spot eccetera eccetera allora lì qualche piccolo colpo di dry burn si può anche dare ad esempio c'è chi con i vari materiali ha creato dei profili per il DNA per fare il dry burn in controllo di temperatura quindi non superare esatto arrivare alla temperatura che ti permette di vedere gli eventuali hot spot o comunque ti permette di dare la pulita alla coil ma senza andare a snaturare il materiale e quindi siamo scelto a superare a segnale di vari materiali ad esempio il titanio sappiamo che se lo portiamo a temperatura troppo alta comincia a sviluppare biossidi di titanio che non è proprio bello da sua pare ecco no non fa bene per niente non fa benissimo quindi generalmente se uno non vuole rischiare basta non fare il dry burn per niente dai una bella pulita al tuo filo e vai avanti tanto comunque le temperature in gioco quelli che sono batteri virus non ci sono problemi vengono eliminati alla prima accensione si a sopra i 60 80 gradi vanno via noi svapiamo a 210 215 sì adesso io sono a 2.15 quindi se voglio ce n'è ce n'è sì esatto è come che passano nel forno esatto allora vediamo un pochino la chat cosa dicono sì intanto io ce l'ho fatta grande adesso ti faccio vi faccio anche vedere qua allora guarda che volevo prendere in fiera non c'era da bellino eh eh sì decisamente sì sono contento sono molto contento sì sì NIFE 48 se spire su punta da 2 TCR 4050 vado bene sul 210 gradi 4050 no non è 4050 4050 è importante è un 4000 se è 400 il NIFE 48 poi dipende anche di chi di ZIVIP il NIFE 48 è un TCR 400 o 4000 a seconda del circuito credo che Starplat vada con con le migliaia se è 4000 eccetera eccetera su 210 gradi va sempre bene comunque siamo bene al di sotto della temperatura limite del cotone siamo un pochino sotto la temperatura di vaporizzazione del WG però normalmente viene trasportato dal resto della vaporizzazione non ci sono particolari problemi sì il top sarebbe 215 220 ma anche 230 se la coil viene errorata bene non ci sono particolari problemi serve solo proprio per evitare in caso di incidente quindi non arriva il liquido per qualche motivo o mi dimentico di ricaricare a quel punto arrivi a sentire un pochino l'aroma di tostato ma senza che si sviluppino schifezze sì ma anche perché prima inizia a calarti l'aroma proprio da paura ah guarda io stamattina ero con con l'elix con lo speaker mi ero dimenticato di aprire il liquido sono partito da casa sono arrivato a metà strada ma perché oggi non sviluppa vapore non capisco perché poi ho guardato ma sono anche un cretino ho aperto l'effetto risucchia sì sì come l'hai aperto ha fatto le bolle ha criccato il vetrino sì sì Cesare Flores è un sire in Pia Dinaro no è molto meglio questo qui è il Millennium che praticamente ho cambiato le parti in acciaio che sarebbero queste qua e questa qua sotto tutto quanto e ho montato il kit che mi ha mandato Trombetta l'exuvia kit questo qua che praticamente ti dà la parte del drip tip la parte superiore gli OR e la regolazione dell'aria o così o nere mi sembra che ci siano oppure in Ultim è bellino tra l'altro pesa anche proprio una valanga di meno sembra finto cioè l'ho dovuto togliere dall'ovetto perché sembrava che non c'avevo niente se mi dava fastidio era troppo è vero notevole 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 e qui continuano a chiedere a quanti gradi dovrei andare diciamo normalmente massimo 230 gradi poi dipende dal tuo gusto se vuoi provare a 210 e trovi che il liquido sviluppa quelle aroma che ti piace perfetto poi si può giocare 210 215 poi a 215 magari poi vado a giocare con i watt quindi aumento di un watt aumento di 2-3 watt oppure diminuisco le 3 watt e sento proprio la differenza nel nel vapore che arriva poi mi fanno notare che mi sono dimenticato di Arctic Fox che probabilmente è la cosa migliore sul mercato attualmente perché prende un circuito diciamo modesto come quello dell'epico e lo fa diventare quasi un DNA è una cosa spettacolare l'hanno fatto veramente bene direi direi proprio insieme al TC meglio usare vari watt o vari term allora vari watt o vari term se non sbaglio è una esclusiva del die code mi sbaglio o del perché effettivamente quando sei con un signor DNA non hai questa questa differenza cioè gli imposti temperature imposti watt giochi lui comunque quando arriva a temperatura diminuisce i watt e basta insomma non fa altro off topic sempre star plat star plat è uno di quei circuiti che ancora non ho off topic ma neanche tanto com'è la resa aromatica del titan ecco spiega la differenza fra i vari fili cosa cambia resa aromatica attivazione arrivare alla temperatura perché si usano quei fili diversi se non usere sempre il nif 48 vai in controllo la temperatura e si è libero così effettivamente puoi giocare sulla famosa cosa chiamata heat flux cioè quanto riesce a sviluppare in temperatura il materiale che usiamo quindi se prendiamo un acciaio spiegalo bene perché non è semplice arrivo arrivo l'acciaio ad esempio è un materiale che si scalda tanto si scalda velocemente e si raffredda altrettanto velocemente questo cosa vuol dire che ogni volta che andiamo a fare una svapata praticamente ricomincia tutto il ciclo cioè fa in tempo a raffreddarsi fa in tempo ad arrivare al massimo alla temperatura il NIFE 48 ad esempio è più lento a raffreddarsi quindi dato il primo tiro che sembra guarda senti come spinge come reagisce poi il secondo tiro magari lo trovi un pochino più blando perché comunque già il filo è in temperatura e il DNA si accorge subito che è in temperatura e quindi ti taglia subito l'erogazione quindi quella è una cosa da tenere presente se abbiamo un atomizzatore che fornisce parecchia aria quindi riesce a raffreddare velocemente la coil mentre durante la svapata possiamo usare anche materiali più rilassati io ad esempio con lo speed il 14 uso l'acciaio perché si arroventa subito ma si raffredda anche molto alla svelta e se no svapi dentro la caffettiera potrebbe essere anche un'idea adesso la vado a prendere e rigenero la caffettiera vero adesso c'è una domanda bellissima Simone Scotti ciao perché hai fatto il refill dal basso al millennium perché è la cosa più comoda del millennium della vita per sempre perché facendo così non puoi pisciare lo riempi tutto e ci metti un quarto del tempo e intanto vedi anche come hai messo la coil perché basta che tu lo ruoti e testi in giù poi giri stappi e la coil com'è perfetta pulita fai il liquido a livello cioè praticamente pieno poi basta che tu giri rincastri quello apri l'aria è già uscita giri sei già a posto e l'hai riempito tutto e ci sta molto più metti un secondo sì questa qui per me è la cosa più comoda che tra l'altro nel video non l'avevo neanche detto perché non ci avevo pensato neanch'io che potesse essere così una figata ma veramente anche in giro si vuole un secondo e vai da dio eh sì decisamente sì con il 900 che filo e quante spire e che temperatura beh la temperatura è sempre quella 2.15 2.20 la temperatura è sempre quella lì che filo il Cantal il 900 è uno di quelli di quegli atomizzatori che non non mi hanno soddisfatto tantissimo in TC non so perché non sono stato ad analizzare tanto lo uso comunque anche in TC soprattutto con con il barrel che comunque barrel kit intendo che comunque permette di non avere così tanti patemi di verificare ogni volta se è abbastanza irrorato o meno con lo squonk fai presto appena senti che ti cala la roma dai una squonkata e sei a posto non c'è quel problema ah Simone non per problemi che dicono di allargamento e Gabriele fa perché non fa tenuta allora partendo dal fatto che io svapo con tutto quanto il liquido aperto sempre quindi non mi si allaga mai io non ho riscontrato questo anche te non ho riscontrato questo problema basta saper rigenerare bene cioè normale mettere abbastanza cotone cioè il cotone lo devi mettere bene e semplicemente lo carico così perché ci faccio molto prima che mettermi lì svitare tutto quanto la ghiera caricare che non viene pieno richiudere tutto quanto la ghiera riaprire rigirare qui fatto è velocissimo è proprio per una questione di velocità e comodità ce l'abbiamo hanno un sistema che è geniale per aprire il tank e quindi usiamolo nemmeno con l'impegno sono riuscito a far piacere i millennium neanche io infatti ci ho provato a me mi avevo orgogliato una volta all'inizio ma perché ci avevo messo pochissimo cotone perché io sono sempre a risparmio sono abituato al caiphone v3 mini che si può regolare il liquido e di solito dove puoi regolare il liquido tende sempre ad alimentare poco infatti il caiphone v3 mini eh no il caiphone v3 mini se se ci metti il cotone giusto devi tenere tutto il liquido aperto e tende ad andare quasi in secca delle volte sarà così anche il millennium no il millennium alimenta da paura proprio da paura anche perché giustamente non essendo eh cioè con questo sistema qui non può essere mai stagno è impossibile e quindi tende sempre a sovralimentare basta mettere molto cotone c'è il cotone giusto che riempie e poi tengo tutto aperto il liquido ma non non ho problemi di allagamento no aspetta quello che ha fatto Weberstack non era tanto il discorso del pisciare eccetera eccetera ha fatto ovviamente notare che quando vai a stappare escono fuori le bollicine ma è giusto perché comunque vai a creare una depressione e dalla fessura della campana escono le bollicine però non è che ha detto che pisciava come una fontana perlomeno non mi ricordo che avessi detto così no è chiaro non aglio nella regolazione del liquido anche se tu lo tieni tutto quanto chiuso un minimo passa c'è l'aria passa veramente da dei posti veramente che non si vede quindi o si grippa e allora non passa l'aria se no è normale allora dopo valla a stappare sì vabbè comunque una domanda che non è neanche strana ci sta con gli atom low cost si può usare il controllo della temperatura esempio etna sirine gate sì io l'ho usato spesso se l'atomizzatore non è fatto di cartone direi che il materiale dell'atomizzatore è sempre quello sempre l'acciaio è non è che possiamo variare di chissà che cosa potremmo trovare quella cosa che si dice qualche clone magari con delle tolleranze non fatte bene o comunque dei materiali non precisi che vanno a creare delle false letture quello sì sì però magari sinceramente ho provato di tutto fammi pensare l'unico che non sono riuscito a mandare in temperatura è l'expro 1.3 quello con la molla eh beh ma lì perché c'è proprio un problema della molla ah sì deve avere comunque quel gioco e quel gioco non ti permette di avere una lettura precisa al 100% eh certo certo e quindi come rigeneri te spiegami un po' te come rigeneri e perché prendi il filo lo giri sulla punta lo metti dentro come rigeneri generalmente una spire in più del cantante dove ci sta ovviamente esempio sul su un millennium anche 8 spire metto basta insomma che non siano esagerati che poi mi sborda la coil fuori dall'atomizzatore non è una cosa bella da vedere però generalmente cerco di mettere più materiale possibile e per avere una maggiore precisione nella temperatura letta e per avere più materiale a contatto con il cotone quindi avere una produzione di vapore maggiore ok una roba Gabriele 00 Benur dice infatti il filo dal basso Gabriele dice Benur ma tanto ti diranno che è colpa tua che non sai rigenerare no assolutamente allora bisogna partire dal presupposto che tutti gli ottimizzatori tutte quante le box niente è perfetto e tutto è diverso questo qui è un sistema che ti dà la possibilità di aprire il tank dal basso ti dà cioè non ci sono i filetti non c'è tante cose è una nuova concezione giustamente tu hai tot pregi e hai anche tot difetti un difetto è quello che totalmente chiuso per non grippare per non avere dentro gli OR non ti fa tenuta quindi giustamente se tu lo vai a caricare dall'alto e il cotone non è tanto tende non sempre per dire quando ho fatto il video non me l'ha fatto un'altra volta me lo fece tende a non ad allagarci sì non si è allagato ma non alimenta tanto e quindi tende a non a gorgogliare ma senti che è andato dentro del liquido che non sarebbe dovuto andarci dentro giustamente però ci dà la possibilità di caricare dal basso facendo così ovvio a questo problema sono anche più comodo l'automizzatore è un aroma della madonna posso cambiare tre campane sì nel senso faccio una mano di conti dico ne vale la pena tranquillamente non lo vedo più di tanto come un difetto ci sta ci sono tanti atomizzatori che li abbiamo usati tutti quanti e hanno dei difetti che ci chiudono occhi perché sono atomizzatori che funzionano da paura questo qui è uno di quei casi lì tranquillamente e poi per dire io queste qui non prendo soldi per fare le recensioni sia chiaro io sono già onorato che me l'ha mandato e sono contentissimo tra l'altro con Guido quando c'è qualcosa che non va bene gli dico e cazzo hai fatto mentre lui l'ha fatto mi mandava audio ci sentivamo perché voleva risolvere certi problemi questo qui è un problema che non puoi risolvere ma che più di tanto non dà fastidio perché semplicemente si tratta di caricare dal basso e non hai nessun tipo di problema anzi ovviamente ci saranno magari delle variazioni tolleranze ci saranno delle variazioni di tolleranza quindi basta un micron in più o in meno che già lo vedi a livello del liquido certo certo però purtroppo è un problema che grazie io lo intendo così grazie a questo problema io sono più comodo a ricaricarlo dal basso quello sì quello sì Simone Scotti sto provando a usare una Pulse in TC con Goon intanto una Pulse o una Pulse X o meglio l'hai aggiornata con il firmware che arriva a 90 Watt eccetera eccetera o meno ti dico questo perché c'è una tabella per impostare il TCR sulla Pulse in base ai valori ZFIP perché il GineChip ha un po' di tolleranza sballata e quindi ci sono i valori TCR specifici da mettere sulla Pulse ti hanno consigliato di usare in single coil sì perché effettivamente per usare in dual coil devi essere proprio precisissimo avere la coil identica da una parte all'altra stessa distanza dalle torrette stessa distanza delle spire perché basta un minimo che una coil si scalda più dell'altra e ti sballa completamente la lettura quindi o ti taglia subito o ti va a bruciare il cotone purtroppo non si può mettere l'Arctic Fox quello che era la domanda poi finale che faceva no Arctic Fox sul sito NF Team se non sbaglio NF Team.org c'è l'elenco di quelle che sono le box supportate purtroppo non sono più tante perché cominciano anche un pochino a scemare quel tipo di chip ok cos'altro c'è da dire di basilare sul controllo della temperatura basta diciamo di altre cose sul DNA ad esempio DNA75C 255C c'è il famoso replay che non è altro che una versione avanzata del controllo di temperatura dove noi possiamo semplicemente dimenticarci di mettere l'impostazione della temperatura di mettere l'impostazione dei watt e sarà il replay stesso che va a misurare il puff che abbiamo fatto quindi la svappata che abbiamo fatto e a seconda della temperatura di partenza e temperatura finale del tempo della nostra svappata andrà a cercare di ricreare quelle condizioni ideali ad ogni successiva svappata quindi praticamente è come le centraline delle macchine da adesso nuove che mano a mano se tu c'è un problema ti modificano modificano impara sul tuo modo di svappare dopo come impostazione sul replay c'è la sensazione di temperatura c'è il warm lo chiamano quindi voglio avere una svappata più calda o meno calda basta non ci sono altri settaggi importanti chiaro se ho un MTL non metterò 200 watt e poi dopo faccio la prima svappata perché tutti i controlli di temperatura che vuoi la botta gliela dallo stesso al cotone chiede Gabriele ma usate di solito un pre-hit non è un pre-hit è il passaggio cui parti pre-hit lo puoi usare normalmente si usa in cloud o in flavor con la MTL non serve perché comunque abbiamo dei fili sottili non è necessario pre-riscaldare comunque dare la prima botta un pochino più forte ad esempio con il twist di 27 goes con un dot pitch l'avevo fatto se non sbaglio di 0,5 quindi abbastanza stretto ma non troppo avevo messo un buon secondo di pre-hit per dare la prima botta di temperatura a quel punto riesci a fare il volo un secondo era tanto un secondo era tanto sì avevo messo anche parecchio parecchio spire sembra che fossero 9 9-10 spire forse erano allora sì un secondo cazzo meno sì sì no meno comunque c'è sempre il controllo di temperatura se supera la temperatura comunque taglia puoi mettere anche 10 secondi di pre-hit lui lo taglia però fa cagare se te parti va io lo taglio subito è bruttissimo è come quando ti va e scarica la batteria e poi toglie subito è bruttissimo Matteo Spinelli pregi e difetti dei fili più utilizzati questa è questa è bella questa è bella anche perché sinceramente non sono mai pensato di cercare i difetti o perlomeno non può essere una cosa oggettiva può essere solo una cosa soggettiva esempio che ne so lo zirconium 27 io l'ho provato e ho trovato la quadra solamente nel vape shell perché? una volta messo nel vape shell faceva ma che ne so probabilmente per il tipo di camera per il tipo di alimentazione ho trovato che aveva quella reattività che ad esempio cerchi tu quando vai in meccanico a sentire proprio la coil che ti parte rabbiosa che ti fa quello scoppiettino iniziale e che comunque non ti viene tagliato immediatamente perché riesce comunque a prendere abbastanza aria e non andare a superare il valore di temperatura poi che ne so l'Italia è quello che ho usato un po' di meno tant'è che infatti il rocket è ancora bello nuovo dovrei cominciare ad usarlo di più ma ho preso un 29 che è troppo sottile per certe cose NIF48 è quello che uso ovunque è quello che mi piace un po' di più come resa aromatica come tipo di reazione al calore eccetera eccetera come come me se sei allergico al nickel tipo chingola da bestia eh sì quello sì quello sì però il nickel c'è comunque anche un po' dappertutto l'unico che faceva le coil o meglio che conosciamo noi era Wafon che usava materiali nickel free effettivamente a parte c'hai ancora tu le coil che dobbiamo ancora provare sì sì di prima o poi vengo io ho rimasto anche un bel rocchettino sì sì adesso poi veniamo un giorno facciamo la prova anche di quelle coil lì delle socks Gabriel James con quale cotone l'uso del TC combatta al meglio allora se posso dire io una roba visto che io non svapo incontro la temperatura ma a rigor di logica visto che il cotone noi non andiamo mai a bruciare non andiamo mai a temperatura non andiamo mai in teoria è un tramite quindi qualsiasi cotone mi verrebbe da dire ovviamente se tu hai un atomizzatore che ha bisogno di assorbire di più o di meno lì lo vedi col cotone quando rigeneri però cioè per dire nell'include si usava tantissimo il kendo perché se tu andavi troppo su con le temperature non bruciava mai ma controllo della temperatura non vai su con le temperature oltre a bruciare il cotone quindi fondamentalmente va bene tutto a quel punto scegli il cotone che ti piace di più dal punto di vista proprio organolettico del sapore lasciare esatto ad esempio io con l'angorabit ultimamente mi trovo benissimo con muji mi trovo benissimo dipende un pochino anche da dove mi trovo se ho il mio pacchettone dietro del muji uso quello Fabio Bergamini i difetti del NIF 48 è che non ti trova dite dove lo prendi io lo prendo o direttamente a Zivip in Germania o Emporio Pan o Tisvapo che sono questi tre insomma dove l'ho trovato il primo in assoluto sì l'ho trovato da Tisvapo il primo che ho preso in assoluto ah pensavo da Emporio Pan no da Tisvapo poi Emporio Pan invece ho trovato i rocchettoni da 50 e lì mi sono innamorato di quei miei rocchettoni che sono bellissimi sono belli pesanti quando li prendi ti danno soddisfazione a tenerli in mano ok se il N80 se potesse usare in TC sarebbe il filo migliore di tutti sempre secondo i miei gusti comunque nel N80 ce n'è parecchio di nickel sì e direi sì io mi ricordo quando rigeneravo le prime volte che faceva gli esperimenti col Santone ma più che altro con Maurice con il filo che era praticamente soltanto nickel sembrava che era morbidissimissimo sottilissimo mi presento ma so che facevamo tipo 30 spire su punta da un e mezzo che ti viene una coi lunghissima devono essere separate perché e come andavi a sfilarci il cotone si piegava tutta c'era proprio ti passava la voglia da paura lì di svapare veramente però adesso ci sono fili e tutto quanto più alla portata dai è più facile riuscire a copare in controllo della temperatura diciamo intanto una volta sempre parlando di MTL una volta che hai 27 28 29 hai coperto tutto tutti gli atomizzatori che puoi fare chiaro che per andare in cloud o in flavor o fai dei twist oppure prendi dei fili un pochino più grossi e ultimamente sto provando il NIFE 30 sempre di Zivip e sono combattuto perché ad esempio il 29 no non ha una precisione sufficiente e tende a tagliare subito l'erogazione il 27 28 aggiungendo anche due spie in più rispetto al NIFE 48 mi sto trovando bene dopo la difficoltà è andare a trovare il materiale giusto se vuoi fare prima una simulazione su Steam Engine perché ad esempio NIFE 48 che sarebbe l'alloy 52 su Steam Engine in realtà poi il valore TCR che viene riportato lì non è quello del NIFE 48 di Zivip ma è quello del NIFE 48 americano che è 44.030 invece aspetta dammi un secondo che vado su Steam Engine che voglio essere preciso Homer 78 altro difetto di un filo che Rev conosce bene che quando fai le spire ti salta in faccia tipo molla decisamente dove si trova il compagno Mugi la bustina a me me l'ha portata Mirko che è nata a Bologna al negozio della Mugi però secondo me se vai voglio vedere se c'è su Amazon sai che secondo me c'è anche su Amazon non c'è quello originale non c'è proprio Mugi no perlomeno io o meglio quando l'ho cercato non l'avevo trovato magari adesso è arrivato allora dicevo Nifet al 52 si scusa Nifet al 52 viene riportato come 4036 di TCR che non è il valore dichiarato da da Zivip che invece ritroviamo nel dove l'ho riperso aiuto nel Nife senza niente cioè quello che si chiama Reactor Wire che ci dà come TCR 4000 però poi andiamo a vedere la resistività è diversa quindi purtroppo non si riesce a fare contemporaneamente la simulazione di temperatura e il calcolo diciamo dell'Eat Flux eccetera eccetera quindi bisogna fare due giri ogni volta comunque il valore da mettere è 4000 del Nife 48 Zivip come faccio a vedere se il cotone se il muji è quello giusto intanto che si è scritto muji proprio sulla confezione si no questo qua quello adesso sono cieco poi dopo devo vedere una finestrina così comunque questo qui è su Amazon e viene 6,50 euro spedizione gratuita cosa c'è scritto il e-cru come cavolo si chiama si c'è scritto lo dico subito appena si apre con calma sappiamo i nostri potenti mezzi c'è scritto cut cotton e-cru ah si è lui esatto questo qua ragazzi viene 6,50 euro spedito il negozio lo paghi sui 5 euro mi sembra si e con il pacco ci stai bene un anno ma anche forse anche di più si anche di più io l'ho usato anche nella temperatura si vabbè ma poi l'ho usato anche nel profile fai un bello scotticione grosso al fine del profile funziona benissimo poi c'è un sacco di gente che taglia cioè toglie la parte quella un po' più dura no? si la prima da una parte e dall'altra ti rimane tutto 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 favore niente va bene se gli hanno un po' si si sfalda subito non è così importante dicevo una cosina che io in questa stanza che è lo sgabutto delle scope della bacchina in orsile c'è un particolare che lì dietro dove non potete vedere passa la canna fumaria praticamente questa parrucca è bagnata in questo momento o più mi fa un attimo alla metamorfosi scusate ma toglitela ah ok togli le cuffie cazzo sembra Hagrid stavi meglio con la parrucca però adesso ci avrà un freddo nella testa incredibile che dolore ma più che altro ci avrà un freddo nella testa adesso incredibile abbastanza però si sta si sta proprio bene si è vero si decisamente vediamo un po' quali altri fili ho qui sono sempre loro un po' di nickel 80 un po' di cantal e i vari ecco questi facciamo un po' una comparazione questo no questo no questi sono i fili che ho per il controllo di temperatura come quantità eh non c'è Mario questi sono quelli che mi sono arrivati sei un po' scarto direi una volta che hai cantale in i chrome che cazzo vuoi che devi andare a fare chissà che mi piacerebbe provare qualche filo strano tipo che non so l'argento l'oro il tungsteno Gabriel Z ma il tungsteno non sta bene non lo so secondo me vai subito in stecca non lo so però da quello che vedo esiste su steam engine quindi probabilmente qualcuno lo usa ha anche un valore TCR no ha anche un valore TCR di 4500 che è notevole si però è reattivissimo dunque facciamo una cosa con 27 goes facciamo una coil da 3 mm mettiamo 8 spire 5 viene una resistenza di 0,054 effettivamente fai luce ti hai capito di solito questi si utilizzano per fare gli inneschi della dinamite delle bombe ecco quando arrivi a 7 spire arrivi a 0,1 ohm eh sei un po' bassino eh un po' basso sì decisamente chiedeva Gabriel James se qualcuno l'abbia mai usato secondo me no nessuno che abbia ancora la lingua la domanda è perché c'è su Steam Engine però vabbè c'è anche loro ci sono anche altri fili è per quello Gabriel James ma nel profile alla fine la mesh in SS l'hai provata in controllo della temperatura anche se ha poco senso ma come andava alla fine guarda dico non l'ho provata in controllo della temperatura perché alla fine va proprio da dio così cioè secondo me il profile è da utilizzare così com'è perché lo utilizzi già a watt bassi l'unica cosa è che devi rigenerarlo bene se non lo rigeneri bene col cotone anche se lo utilizzi in controllo della temperatura taglierebbe subito e quindi c'è troppo poca differenza allora qui abbiamo un profile Unity abbiamo la sua bella mesh in acciaio ne ho comprate sei scatole solo te l'uso in tc eh si allora adesso ti dico come lo uso in tc se magari sblocco la box anziché premere i tasti a caso dai muoviti allora che box è? è lei dna yes allora dove che avevo messo qua 014 55 watt 220 gradi ma arrivo con un pre-hit esagerato no questa era una parola che ho fatto con un pre-hit sui 60 gradi 60 gradi scusa 60 watt muoviti che non è poco no però è proprio il minimo sì 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 il profile anche a 50 watt va da dio allora si può fare anche una cosa particolare cioè mettere il pre-hit in temperatura con 60 watt e di arrivare che ne so a 190 quindi lui cercare di portare mi devo togliere gli occhiali perché non ci vedo più da vicino sto diventando vecchio ecco così lui lo porta a 190 gradi nel più breve tempo possibile e poi dopo va a fare il controllo normale infatti già spinge è bello perché si sente che fa e poi sta e vedi che alla fine alla fine cala però si sta però il suo lavoro eh sì 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 certo certo e devo dire che c'è anche il liquido della nostra amica comune viene bene sì viene bene me l'hai fatto provare è buono molto sul profile viene proprio bene Matteo Spinelli più è alto il TCR meglio è? più è alto il TCR meglio è più è alto il TC Precision che è quello subito sotto in in Steam Engine è meglio è noterete che la precisione aumenta sia con l'aumentare del diametro sia con l'aumentare delle delle spire che appunto dipende da quanto materiale noi mettiamo nella nostra coil più materiale c'è più dilatazione cioè più materiale che si dilata c'è e quindi maggiore la precisione per trarre le sue conclusioni sì cioè la variazione è più precisa rispetto a magari che ne so una singola spira che si dilata immediatamente e ti taglia subito sì Fete Dede sul purity da guancia conviene svapare in TC ma più che su quell'atomizzatore o su quell'altro se conviene non è il conviene non conviene qui e là è proprio un modo diverso di svapare cioè regolando una temperatura svapi sempre in maniera quasi costante e decidi te il vapore è un po' più tiepido è un po' più caldo le varie fine temperature come variano sulla Roma è proprio un altro modo di svapare è più ci sta anche che possa non piacere per niente certo a me per dire non mi piace a me per farmi un piacere come? io invece svapo quasi solo in controllo di temperatura tranne vabbè con la limelight quelle che sono meccaniche che non si può fare alcune volte gli home di Steam Engine non corrispondono a quelle rilevate dalle box da cosa dipende? da quello che dipende agli fili americani e noi usiamo fili tedeschi o comunque europei possono essersi delle piccole variazioni nella resistività sì nelle percentuali dei materiali che ci sono all'interno sì cioè magari in uno c'è un 2% in più di nickel un 1% in meno di acciaio variano un po' le varie miscele sì è chiaro che se ti dice questa cosa deve venire da 1,6 e poi ti viene da 2,4 no allora potrebbe essere un altro sì è sbagliato te a fare qualcosa perché sul profile unity esatto infatti è lo stesso perché sul profile unity anche se è rigenerato perfettamente cotonato bene mi piscia allora profile unity io non ce l'ho profile unity però so come funziona esatto o manca una R ah beh quello potrebbe essere come me faceva per dire a me l'espromizer 3 mi è arrivato senza uno R proprio c'era come ricambio ma non era montato ma tra l'altro già nel pezzo chiuso no e quindi mi pisciava 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 ho aperto ci ho messo la R che mancava e poi giustamente funzionava quindi o ti manco a smontarlo o ti manca uno R dove c'è le tenute dai vetri o dove ci sono i filetti oppure non hai messo bene il cotone cioè le foglie possono essere soltanto lì è bastardo lo unity perché bisogna stare piuttosto attenti soprattutto perché fanno vedere spesso che mettono tutto il cotone nell'asola sotto in realtà no bisogna mettere solo il baffettino sotto del cotone nell'asola e l'altro lo pettino verso l'alto quindi deve fare così deve essere praticamente il cotone perché il liquido gli arriva anche dall'alto oltre che dalle asole sotto per questo hanno fatto il Killing M di Van D Vape che io ancora sto aspettando non ho ancora avuto non il coraggio ma il tempo proprio materiale di andarlo a prendere eh sì intanto c'è Dan il 92 DJ aiutiamolo cioè spieghiamo ho una domanda sono un novellino ho un eguaglio in un mese e mezzo ho cambiato tutte le testine è normale? Madonna ne è cambiate anche poche che in teoria io con una testina ci facevo una settimana più o meno direi che o svapi poco o svapi liquidi chiarissimi non organici tipo non ti svapi dei tabaccosi scuri perché se no con una resistenza ci fai tre giorni se ti svapi la roba tipo l'Eisenberg sì ci sta che in un mese e mezzo ne hai usato soltanto tre ma è normalissimo è anche per quello che se vedi che svapare ti piace ha senso imparare a capire come funziona un ottimizzatore rigenerabile ovvero dove tu ti fai le resistenze da solo perché risparmi soldi e svapi molto meglio e non devi stare a cambiare le resistenze perché te le fai te e col prezzo di una scatola di resistenze ci stai bene due mesi anche di più forse sì anche di più quanto costa un rocchetto di filo tipo di Cantala 1 da 28 gauge 10 euro no meno meno vero sì sì stai vogliamo vogliamo i prezzi vediamo i prezzi precisi una scatola di cotone se ti prendi il musico con 5 euro sei a posto un anno per sempre esatto un rocchetto di filo sei a posto almeno 4 mesi 5 mesi tranquillamente con esatto con 10 euro sei a posto per 6 mesi direi che ne vale la pena e svapi molto meglio però devi metterti nell'ordine delle idee che perdici un po' di tempo all'inizio per imparare e poi una volta che hai imparato il tempo di cambiare una resistenza pulirti le mani e tutto è quello che te la sei rigenerata te con una resa aromatica 20-30 volte superiore ad esempio su Emporio Pan adesso c'è il filo Geek Vape Cantal A1 28 gauge a 2 euro e 30 eh per dire andiamo a prendere subito una bella carrettata via allora aggiungi a carrello 4 28 stai prendendo proprio? no però il Geek Vape no ce l'ho ancora quello c'è anche il nano fuse come cacchio si chiama MTL io ho sempre questo qua quelli sono sono belli se non ci fosse quella cacchio di etichetta ne ho 4 rocchetti ne ho 4 rocchetti non si legge più cosa c'è scritto ah ok no però come filo io mi sono sempre trovato bene con questi eh da quando mi piace che utilizzo quelli sì sì o quelli della Yud però questi qua mi piacciono di più sì intanto quelli se non sbaglio in bottega li prendevo anch'io sì 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 decisamente buoni Daniel ah ok grazie sì comunque svapo di liquidi praticamente senza aroma sono dei prefatti tedeschi ok ok ho capito ho capito sì allora ci sta che ne usate solo tre unico svapo non sono d'accordo Gabriele i profili unity come la maggior parte degli ottimizzatori a mesh tende al dolce impasta al tutto il Kaling con le OFRF invece è più fedele molti liquidi vengono su top io non l'ho provato però mi fido scusate ma Steam Engine è l'unico sito valido per fare i calcoli o ce ne sono altri? io conosco quello sinceramente non l'ho proprio cercato un altro sito ok Aro Revo scaricato da Steam Engine la curva dell'alloy 52 lo uso con IFE 48 sbaglio? no non è sbagliato semplicemente è un pochino più conservativa essendo 4.036 anziché 4.000 di TCR taglierà un pochino prima quindi non arriverai a 230 se imposti 230 ma a 225 220 se ti trovi che non ti piace come resa prova a impostare la curva del del reactor come cavolo si chiama del NIFE e basta insomma ok Piero Brad io che cambio filo ogni generazione ci spendo un casino uso tabacchi organici ma un casino con un rocchetto se non ci fai almeno un mese lo stai buttando via è veramente da un rocchetto un mese ce lo devi fare per forza no io ancora ho il rocchetto eh? credo di aver finito un rocchetto vabbè che ne ho tanti però credo di aver finito un rocchetto nella mia vita ancora no io ne ho finiti abbastanza però con un rocchetto anche se generi tre volte al giorno un mese glielo fai per forza sì dai e con una confezione di cotone ce lo fai anche lì un mese sei su 10 euro al mese ci sta devo devo prendere la Pico devo prendere la Pico ce lo dirò per Arctic Fox sì comunque se non sbaglio è 400 se non sbaglio Arctic Fox va a tre cifre ed è 400 per il NIFE 48 Stefano Cava io trovo ottima l'app Vapetool è vero in tanti ne hanno detto sì per Android per IOS coil builder che è lo stesso sviluppatore di vape tool da te penso perché non hanno modificato vape tool non lo so probabilmente perché se tu cerchi vape sull'app store non trovi niente ah ok parole penso bannate sull'app store immaginavo a meno che non si è cambiato ultimamente vediamo un po' 400 dicono ah c'è anche vape tool adesso no vedi infatti cerchi vape tool e viene fuori coil builder cambiato nome dai cambiato nome e quindi come si fa qui non mi convincerai mai a svappare in controllo della temperatura io non devo convincerti a svappare in temperatura invece si no perché non c'è un motivo diciamo serio di dire bisogna svappare in controllo di temperatura ma volevo io volevo soltanto che ti dicessi questo in realtà a me piace io sono uno smanettone perché mi piace come gusto perché mi piace collegare il mio tna e scribe e farci le cavolate ma è tutto lì insomma non è che c'è un motivo vero importante imponente che dice no non si può svappare e va arrivata altrimenti se cazza piano ha svappato fino adesso fino a ieri certo è giusto un altro modo però vedo che in tantissimi lo utilizzano il controllo della temperatura soprattutto negli ultimi anno anno e mezzo è venuto fuori veramente tanto veramente tanto e in pochissimi ne parano quindi sono contento che abbiamo risposto a un po' di domande fai le 7-8 spire sul millennium con la campana grande di NIFE 48 27 però e ti dico anche su punta da 2,75 già sto piaciuto per essere bastardo e poi provi da 190 a 220 gradi e c'è una differenza totale totale ci sono parti dell'aroma del J.K. Barrel che non senti normalmente un po' me l'hai anche fatto provare te sabato ci vediamo questa è fatta apposta per provare il J.K. Barrel in tutte le sue millennia sul millennium non ci metto solo quello tu lo sai quindi sì ci metto anche un po' di assolo di Cavendish mi piace poi ho finito guarda ho rimasto questo qui dai che porto la bottiglia da mezzo litro no 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 lo compro lo compro in fiera non si vende in fiera orca ma è vero oh buonasera Davide Pelato e che stavano dicendo ah sabato siamo a Roma eh sì per chi fosse a Roma che è operatore del settore sabato siamo a Roma o se siete di Roma sabato siamo a Roma staremo lì pochissimo eh perché se siete di Milano siamo comunque a Roma non ho capito se siete di Milano noi siamo comunque a Roma esatto e ci vedremo in poco a maggio non ho capito e ci vedremo invece a Milano a maggio ah è vero perché il Vepiteri lo faranno a Milano non più a Verona ci sta secondo me ci sta io ho un sacco di amici di Milano che non venivano perché a Verona è lontano è solo leggermente più scomodo da raggiungere con i mezzi ma per il resto la distanza è quella dai da noi sì lui lui ha finito il JK però queste sono tutte vuote queste qua sono tutte quante sono farlocche sono tutte vuote anche queste secondo te è un redavento sono tutte svapate ma ti vanno hai svapato poco anche te sono l'ultima mandata qui c'era ancora un goccino adesso vado a tirarlo fuori e gli è piaciuto poco e gli è piaciuto poco al ragazzo ecco che pirva volevo dire Milano è più comoda per uno di Milano ovviamente quelli che sono più vicini a Milano sono contenti e quelli che erano più vicini a Verona li girano sì non cambia niente cioè chi arriva col treno a Milano è eccessivamente più comodo ma a Milano ci si va in treno? a Milano è vicino alla stazione? arrivi in treno e prendi il metro e arrivi in fiera punto finito quindi noi ci andremo con il treno? con la macchina meglio in macchina? io sono Voyager io vado in macchina allora anche io dai io non ho se non riesco dopo aver passato anni e anni e anni su e giù per Milano in treno non riesco più ad avere quella pastoia degli orari non sopporto più gli orari voglio partire quanto mi pare capiamo anch'io sono così anch'io sono così però da noi comunque sono sempre quelle due ore due ore mezza due ore due ore mezza Simone Scotti una domanda che non c'entra nulla con l'argomento sono possessore del vampire e ero curioso del millennium so che sono diverse ma che differenza c'è allora tu che possiedi entrambi si sono due ottimizzatori totalmente diversi cioè non so sono due ottimizzatori da voto 10 secondo me però sono totalmente diversi uno prendi il liquido da sotto e sei sempre alimentazione per costante modifichi l'ampiezza della campana completamente in titanio il millennium può cambiare altre campane è un sistema di controllo del liquido diverso sono ottimizzatori totalmente diversi entrambi validissimi quindi dovresti provarli per capire unico ps anch'io ho finito il jk sig sig help me help me prese sei bocce totali eh non c'è male non c'è male neanche te grazie mille sono contento che ti piaccia la prima mandata era dei sei bocce quella che ho preso tre si tre spazzatori di fiducia tre a San Marino poi dopo ho cominciato con i lotti da nove dieci a botta con i lotti perché c'è stato il periodo che lo preparavo anche per gli amici qui che ho iniziato allo svappo eccetera eccetera quindi me ne andavo anche di più via adesso lo tengo come fosse il mio tesoro reverendo preciso MTL oppure Dvaru 16 MTL per quello che costano tutte e due visto che l'altro è il clone il preciso in versione corta mi piace di più devo essere sincero versione lunga con l'estensore sembra che mi si spenga un pochino l'aroma il Dvaru 16 vabbè clone o non clone funziona benissimo è lo spettacolo dopo experience sarà quello che dite voi a me dopo anni di rigenerabile ho trovato la pace con lo build a testine davvero 8 ma non sei l'unico sono tantissimi veramente io ho anche il mio amico di Varese che è il Vines che è grandissimo che lui è svappato da un botto proprio dai primi come me ai tempi e lui adesso usa il suo JustFog ed è contentissimo base neutra mi patinate e basta e lui è un signore fa io ho trovato la pace di sensi così come va il GK sullo Zilda Testine non ho mai provato lo Zilda Testine ma il GK non sporca quasi per niente quindi nelle testine di solito va bene è ovvio che sui rigenerabile apprezzi molto di più è un po' sprecato nei pod o testine io per il discorso di rigenerazione sono come Mirko mi piace mettermi lì che insomma in pausa pranzo in ufficio finito di mangiare metto da parte tiro fuori il mio ottimizzatore prendo il piccolo borsello che ho per la rigenerazione intanto dico una roba perché fra 5 minuti dobbiamo staccare tassativamente che domani è una giornata difficilissima però Giulio86 dice Fede però non c'è nemmeno provata a rigenerare non è assolutamente vero perché venne a gara a casa mia qualche mese fa e ci siamo messi a rigenerare un bel po' di roba e l'ho anche utilizzato per una mesata e mi ha anche lasciato un rocchetto di filo ho fatto i miei esperimenti però proprio io faccio fatica mi piace proprio tanto il vari watt o il meccanico e non riesco proprio a farmi piacere il controllo della temperatura però visto che per quello che andiamo d'accordo eh? per quello che andiamo d'accordo perché siamo diversi perché non ti interessa perché tu usi il reo io ho paura del reo ogni volta che lo usi mi metto sotto il tavolo e aspetto che esploda però vabbè eh perché c'è anche da dire che te svapi in controllo della temperatura perché hai paura di meccanici lui lui ha paurissime veramente ma tanto e ti regalo un tubo no ma non paura dal punto di vista dell'esplosione che cosa io sono terrorizzato dalla stecca ho fatto due stecche in vita mia non voglio ripetere quella bisogna che te ne faccia fare una mesh di stecca no grazie è bellissimo te lo giuro no ma sto bene te ti bevi un sorso di petrolio e ci dai fuoco proprio nella gola è quello veramente guarda dopo dopo la scena famosa in live di Mirko che dà la tirata e stecca e lo vedi proprio lì che inizia a soffrire è l'unico video che ho salvato sul desktop per ricordarmi cosa succede se non vado in temperatura io non so se ci sta seguendo qualcuno dei vecchi tempi che conosce Melone 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 è un ragazzo che girava la bottega tanti anni fa con il cappellone rizzo e lui ha fatto con tergi svappo rossi la vaping station 600 watt però che c'era il sistema che lui ti riparava dalle stecche e allora come diceva il grande giacobassi sarebbe finita lì però c'è sempre uno dietro che facci vedere allora si vede Melone si piega guarda guarda lo mette a 400 così sono sicuro che va che l'ho già provata mette il liquido comunque guarda 400 watt dopo due secondi si scalda si piega anche per tirar più su col palmone e aveva un altro mio fattore adesso non mi ricordo qual era ma aveva le due prese d'aria di fianco belle grosse no? e si vede che si piega e fa come lui ha schiacciato il bottone si è vista la luce come che tu hai acceso una lampadina no? cioè non il rosso il rosso sì ci sarebbe stato era già sul bianco cioè tipo i 4000 gradi no? quando va tot kelvin che diventa bianca la luce no? lampadina accesa lì l'ha data tutta e mentre tirava ha aperto gli occhi perché ha detto cazzo dentro l'ho buttata ma fa male quando la butti fuori e non si è reso conto del danno ah niente cioè non è riusciva neanche a tossire ha fatto proprio ahhh e usciva un filino di vapore perché il vapore era fumo dopo so soltanto che il cotone l'ha tolto così proprio non c'era più dentro la resistenza vabbè lì ci sarebbe voluto il controllo della temperatura avrebbe tagliato subito piccolo omaggio amarcore dello svappo che usa di solito drip tip corti come questo qui e te però hai provato la mesh a casa mia per la prima volta e l'ultima volta sul duetto con il siger italiano non ho atomizzatori a mesh visto che tanti lo chiedevano dai anche te il tuo parere di com'è svappare a mesh è un'altra sensazione non te l'aspetti non ti aspetti di avere quella resistenza anche perché dici che cosa vuoi che sia c'è un rotolino di metallo che cosa vuoi che ti dia come cosa invece vai a a vaporizzare tutto quello che c'è dentro tranne il cotone perché comunque il cotone in minima parte un sapore lo dà certo lì cotone non ce n'è e quindi per forza di cose senti solo il liquido e ti dà una botta che ancora me la ricordo è un pochino è un pochino come il liquido che mi hanno fatto provare qualche giorno fa in negozio a San Marino e mi hanno fatto senti questo che buono che nicotina è no che sia 40 io a mesh ero nicotina 3 però ovviamente quando svappavamo soltanto a mesh usavamo anche nicotina 1 perché ti dà molto di più diciamo che probabilmente meccanicamente essendoci tutto un altro modo di scaldarsi il materiale eccetera eccetera va a vaporizzare tutto quello che c'è non rimane nulla è uno slow svapo è molto più tranquillo molto più relax dai mi piace molto mi piace molto bisogna che ti trovi un atomizzatore mesh e ti insegno a usarlo su un bel tubo no su un tubo no però va bene metteremo in controllo di temperatura anche quello dai secondo me si può fare ragazzi ci dobbiamo salutare purtroppo perché è tardissimo e io spero che vi sia piaciuta questa live a me è piaciuta ho fatto due belle chiacchiere con il mio amico Voyager che poi era il nome Luigi esatto volevo che lo sapessero anche loro lo so ti ho suonato il campanello è stato difficile scegliere quintale di nomi nel mio campanello quindi saluto ringrazio il grande Luigi che è venuto qua stasera e credo che sia stato interessante mi sono divertito tantissimo ci vedremo venerdì con un video settimana prossima vediamo e vi auguro una buona serata e passo i saluti al reverendo non c'era Mirko venerdì? no perché andiamo a Roma quindi venerdì faccio il video come non detto ovviamente non abbiamo anche anche questa sera abbiamo fatto proprio un volo sopra l'argomento che comunque è molto vasto è molto particolare io tutte le domande c'è il canale Telegram quindi non abbiate timore di postarle intanto sono sempre lì attaccato vi rispondo prima o poi vi rispondo e quindi con la somma penedizione dalla abbacchia enorcile pastafariana di San Giovese feudo di Voyager io vi penedico tutti i frittelli nel nome della birra della pasta e del sugo con le polpette ramen e birra e lui bellissimo questa è una roba enorme e con questo ci salutiamo ciao 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 ragazzi grazie grazie ciao